Le operazioni sono state complesse e condizionate anche dalla nuvolosità della giornata, dal vento e dall'altitudine, ma in tarda mattinata è terminato il rilevamento e il successivo recupero delle ossa apparentemente umane avvistate ieri mattina da un escursionista in ascensione sulla Maiella, in una zona abbastanza vicina al rifugio Fusco, situato ad oltre 2.400 metri di altezza. I carabinieri della compagnia di Chieti, diretti dal Maggiore Massimo Capobianco, hanno operato con un elicottero il personale specializzato dell'arma e recuperato, quanto documentato dalle foto scattate dall'escursionista. Oltre alle ossa, rinvenuti anche brandelli di vestiario, un QA di colore blu in particolare. Seguiranno i necessari rilievi comparativi, affidati ora alla medico legale, nella speranza di poter raccogliere materiale sufficiente a determinare un primo identikit della persona deceduta, a partire naturalmente dal DNA. A seguire con trepidazione queste operazioni, in particolare, sono familiari e amici di Valerio De Torre, il notissimo fotografo di Chieti, che per tanti anni è stato collaboratore del quotidiano Il Tempo, scomparso nel nulla nel 2015, proprio dopo due notti trascorse nel rifugio Fusco. La sua escursione sulla Maiella è finora uno dei pochi elementi emersi dalle testimonianze che gli investigatori poterono raccogliere su quello che al momento resta catalogato come allontanamento volontario di Valerio, che al momento della scomparsa aveva 59 anni. Un fascicolo chiuso sette mesi fa, ma che ora potrebbe riaprirsi. L'allarme per la scomparsa fu lanciato il 3 ottobre del 2015. Nell'abitazione deserta del fotografo fu trovato il telefono cellulare di De Torre, che da poco aveva perso l'anziana madre con cui viveva, ma di lui nessuna traccia. Del caso si occupò anche la trasmissione Chi l'ha visto. Poi giorni, settimane, di varie ricerche in montagna, proprio nei pressi del rifugio Fusco, dove aveva trascorso anche un paio di notti, secondo il racconto di altri escursionisti. Ma di Valerio poi nessuna traccia, almeno per cinque lunghissimi anni.